brava, vai bello ma sei bravissimo fermati qua aspetta perché l'elene ha il vento piace questo posto? si è magico eh, è magico vediamo le idee è un posto magico no, è un posto magico guarda, dove andiamo? di qua o di qua? di qua vai, andiamo di qua cammini eh sì, è qua una grotta fermati, fermati aspetta perché noi siamo eh, sì va bene, l'abbiamo vista ma possiamo ah no, no, l'elene ha vuole aspetta, Mari Mari Marina aspetta, l'elene ha va bene e poi dove andiamo? dritti o a sinistra? a sinistra no, è troppo pericoloso andiamo di qua e poi dove andiamo? dritti o a destra? a destra andiamo a destra vai guarda, Marina non parlare vieni ma non parlare se guardi 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 la nata shh non svegliare vai via vai via vai via sta facendo la nata vai via ma non parlare ma non parlare ma non parlare si, si io usciano svegliare no, lo svegliare shhh vai questa usciano ma non parlare ci sono le mie stelle che non va bene svegliare vai 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 forse non tobbiamo shhh dobbiamo svegliarli shhh perché se no si svegliano rimangono male vai saluta saluta la mamma ciao mamma ciao bibistrello ciao 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 ciao